Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Vi è quello che in termini tecnici si chiama un'ultima ora. Infatti, dopo che il Guito Zelensky, attore nato con la N maiuscola prodotto in vitro di Washington, se non di Hollywood, ha attaccato nelle settimane scorse i territori russi, utilizzando peraltro le armi europee per invadere la Russia, ebbene c'è stata una risposta piuttosto dura da parte della Russia di Vladimir Putin e proprio in queste ore si parla di un massiccio attacco russo contro l'Ucraina, un attacco che ha colpito anche Kiev, proprio così Kiev colpita dai russi. Ciò segnala, se ancora ve ne fosse bisogno, che l'Ucraina ha poche possibilità di battere la Russia di Putin, l'Ucraina sta semplicemente figurando come la marionetta agitata da Washington in funzione antirussa. E come non mi stanco di sottolineare ad nauseum, il Guito di Kiev non sta lottando per l'indipendenza e la libertà del proprio popolo, ma viceversa sta sacrificando senza pietà la libertà e l'indipendenza del proprio popolo sull'altare dell'imperialismo della Nato, dell'uccidente e della civiltà dell'hamburger. Questo è il punto fondamentale. La Russia non si può battere facilmente e non è certo entrando nel territorio russo, come ha fatto cantando vittoria qualche settimana fa il Guito Zelensky, che si può pensare di sconfiggere la Russia. Del resto ricordiamo che storicamente tutte le campagne di Russia sono fallite miseramente.